Il contesto ambientale ci è piaciuto molto e le persone sono state molto contente perché questa corda è aperta solo in quest'occasione e mi è piaciuto l'aspetto relazionale, relazionale con il pubblico, relazionale con le volontarie, la sosteria è partita non immediatamente, è partita tre anni dopo, proprio si è avviata e ha sempre avuto più pubblico all'inizio, siamo partiti in sordina e poi è un appuntamento annuale con le varie fasce d'età che vanno dai 20 ai 30, ai 40, alle famiglie, ai ragazzi, diventa veramente un momento conviviale, ha gratificato molto, cioè gratifica il fatto del pubblico che ringrazia ed è molto contento, gratifica molto e comunque ripara anche della fatica.